Siamo tornati a lavorare in pizzeria e questo giorno specifico siamo dei casieri Ferre stai servendo questo povero ragazzo? Sì adesso gli chiedo buongiorno anche il gentile cliente cosa ti piacerebbe? Vediamo che cosa vuole, l'ho salutato Sono pronta ad ordinare, ok Una pivita Vieni, una pivita, non la vuoi una pizza, siamo in pizzeria, no non vuoi nient'altro Se n'è andato e felice Perfetto Almeno sto facendo bene il mio lavoro, è andato via felice, è soddisfatto e sto facendo bene il mio lavoro Ferre guarda eh, guarda come si lavora La nostra pizza è garantita di essere calda e fresca, sono pronto E infatti è che sono pizza Uh, l'hai convinto Stef E guarda adesso cosa faccio Ok, hai mandato l'ordine in cucina, hai visto che carino? No ma ti ho fatto Che cosa hai fatto? Guarda Cos'hai fatto? Perché stai ridendo Stef? Ci sono le moto Ferre Mi stai facendo perdere i clienti, cavolo Stef Scusami però la vedo Anche io gli dico la tua stessa frase così magari non felici Guarda sta pensando Un attimo devo scegliere mi ha detto Cosa vuole? Eh eh Ma tu vendi solo bibite Ferre Eh vabbè, io sarò la detta alle bibite e tu alle pizze Stef Stef l'auto, l'auto C'è qualcuno che vuole un ordine take away Ci pensi tu? Vado io, vado io Vado io Salve, cosa vorresti mangiare? Tutti e due amico mio No? Ok, vuole questa Pizza o bibita mi dici? E quindi? Vediamo un pochino Ok, vuole questa Guardate l'ordine Fa tutto così e arriva la lavagna Bellissimo E quello che ti diceva, hai visto che l'ordine viene mandato direttamente in cucina Ma è bellissimo Stef Sì, è davvero figo Allora sto controllando Compra Zuber qui Oh Cosa stai combinando Stef? Ma costa troppo E praticamente puoi comprare un animaletto Wow Però costa un sacco di soldi Costa 7000 Io non ce li ho Beh Stef, bisogna aspettare Zuber io non ti posso acquistare, mi dispiace Però sei carinissimo, devo essere sincero Ferre non so come dire che non voglio... Ok, eccomi Di nuovo, sono tornato Buongiorno Ciao Stef, mi sono appena addormentata Ma che stai facendo? Per me non c'è nessun cliente Faccio un pisolino, no? Faccio un pisolino Stef Senti, vedi il capo, ti bastone Ma non c'è un capo qui Stef Sono io il capo della pizzeria Ma quando? Se così a me non l'hanno mai detto Hai notato una cosa interessante? Cosa? Qua ci sono delle capsule Sì? Ok, che si possono acquistare per Robux E qui sopra c'è scritto Che scatti indenni undici Al dodici per cento Ed è il miglior collezionatore Ok Ok Non lo so Magari sono oggetti per la nostra casetta Stef Perché se ti ricordi Qui abbiamo anche la nostra casetta da arredare Può essere Se voi possiamo anche andare a casa A guardare un po' di roba Sì, se voi andiamo Allora La possiamo anche potenziare con cento monetine Evidentemente adesso abbiamo quella super minuscola Noi Quindi magari la rendiamo leggermente più grande Cento monetine Vediamo Cento monetine pure io Ok Sono diventata bella? Ma posso tornare a casa? Eh sì che possiamo andare a casa Non so Cioè a piedi Usciamo andiamo Andiamo a casa Ma in un modo più comodo Eh C'è l'auto Ok Qua ci sono le auto Stef andiamo a casa Ok Questa è la mia perché è rosa Non ci puoi salire È la mia auto Vabbè Andiamo a piedi Andiamo a piedi Andiamo a piedi Ah mi scusi Salve Cosa vorrebbe? Ma dai lo stai servendo lì Stef? Sì Sei una persona terribile Ok Tengo prega Beh Mi sembra un buon modo di lavorare Magari le auto di lavorare possiamo prendere Fere Controllo Dici? Eh beh Sì Beh anche se sto per fare le consegne Ciao Fere Scusa Wow Mi sono seduta al volo Mi sono seduta al volo nella tua casa Allora portami a casa Stef Vediamo E se qual è la tua? E ci sono i nomi iscritti Quindi basta leggere i nomi nei cartelli Ok La mia non è quella Credo Fammi sapere Ah la nostra è piccolina Stef Questa è tua È qua però vai Ti lascio l'auto Ok Ciao dopo Buongiorno casetta piccolina piccolina Wow È vero che l'avevo pure arredata Beh sì Dove è la mia? Cose di lusso qui Cose di lusso La mia non c'è Sì Io non ho una casa Allora vediamo Così quindi io posso comunque renderla una piccola casa da casa minuscola Qual è adesso E siamo tutti d'accordo che è minuscola cavolo Ovviamente Poi Come posso comprare ad esempio degli oggetti? Eccola L'ho trovata Hanno fatto un negozio dove comprare le cose Perché hanno cambiato un sacco la mappa comunque Sì è diventata bellissima Stef Sì c'è anche il negozio Io mi ricordo che c'è anche il negozio Stef dove Ah Ma è troppo carina casa mia Opla Cioè è piccolissima però è carina dai Ok ho cambiato anche il colore della casa No puoi anche dormire nel letto È un letto? Sì Si può dormire La mia è già rosa è molto carina Ha un bel peluche Una cassettiera Un servizio da te Un frigorifero Come sempre Fere Arreda più di quanto lavora Non si sa come Assolutamente sì Assolutamente sì Qua c'è la gente che li fornisce Perché ovviamente servono gli ingredienti per la pizzeria Giustamente Però io non ho capito dove dovrebbe essere Invece il negozio dove comprare diciamo gli immobili No c'è Non mi ricordo dov'è però c'è da qualche parte Perché io ricordo che li avevo comprati nel negozio Ah no ok dove c'è la cosa per comprare le monete Se cambi puoi comprare le altre cose Ah ecco vedi Ah no adesso è così Io mi ricordo che qui invece andavi proprio in un negozio Non lo so magari non mi ricordo C'è la nave Chissà che serve Tutte le robe che ci sono La villa C'è un sacco di roba Guardate un po' No comunque non costano neanche troppo le cose No le cose principali no Cioè quella è un pochettino più Però penso che punterò prima ovviamente A far diventare la casa più grande Perché è minuscola in questo momento E non ci starebbe nient'altro Oh soldi grazie Grazie È proprio facile lavorare in questo posto Sono molto felice Non ho lavorato niente Ho fatto cinque ordini contati nella casa Adesso torno a lavorare ovviamente Perché qua non bisogna pacchiare troppo Ok Allora sai che faccio? Penso di andare a fare un pochettino il cuoco Il cuoco? Vabbè sì per cambiare dai vado in cucina Ok Allora io fra poco ti sorprenderò Ti vedo lì che stai chiacchierando Che stai combinando Chiacchierando Ti ho visto lì fuori che stavi chiacchierando con un tipo No Ma non eri tu? Sì che sei tu Non sei fermo qui No Sì che sei fermo qui Sei tu Deve essersi flippato in qualche modo Non sono io Io sto facendo altre cose Ah sei lì nell'armadietto Io ti vedevo di fronte a un tipo Mi sembrava che stessi chiacchierando con qualcuno Ho capito? Però sei nell'armadietto Oh no Cosa stai combinando Steph? Sto facendo una cosa bellissima Ti puoi vestire come cavolo vuoi in questa mappa Vediamo se c'è tipo qualcosa di bello da indossare Però non mi voglio cambiare troppo Tipo qualcosa di particolare Espressione Un bel cappello Oh Bello Però faccio tipo quello serio Sì così Poi vediamo un pochino Cosa tutto stai combinando Nel collo Mi metto una bella cravatina No ci sta malissimo Una collana neanche Oddio Ancora peggio Oddio no Ok È difficile farsi bellini Carina questo Lo so Non è per niente semplice Ok Dietro di che cosa ho bisogno? Una mantella Dietro Voglio qualcosa di bello Perché qua le cose Poi non le posso mai comprare È figo Voglio tipo delle ali fighissime Fammi vedere delle ali fighissime Le più belle che ci sono Nella spalla per sbaglio avevo tolto il tuo capitano Jeff Quindi lo rimetto Queste sono le più belle Ecco fatto Steph Io ho già fatto Ho preso solo le ali Perché il resto mi va bene così Vediamo cosa diventi tu Scusami Come si chiude? Ah devo provare fatto Fatto Devi cliccare fatto Ciao Ferre Oh cavoli Cosa ti sei trasformato Steph Ma puoi sempre il corpo da pirata Io mi sono limitata a prendere queste ali Che comunque sono molto carine Ferre tu cosa fai? In cucina In cucina Finalmente sono arrivata Ma è pieno di ordini Tipo ok Ok la lattina dove la devo posizionare? Non mi ricordo più niente Porca miseria Dove metto le lattine? Qui dentro Non cucinato Qui dentro E come si cucina? Qui dentro Ah questo è il forno Ok Ed è già cotta? O devo aspettare un po'? , sembra già cotta Vediamo Quindi Ma c'è troppa gente in cucina Steph Eh ho notato Siamo troppi Ho notato Allora l'impasto Ok Io faccio la mia pizza È pieno di pizza e margherite Quindi la faccio subito Facciamo così La metto nel forno Ecco qui La metto a cucinare Steph Scegli un forno Che stai fissi a cambiare Devi chiedere il forno Ferre Lo so Mi hai fatto chiedere la pizza Perché stavi continuamente cambiando posto Ferre non importa Le lattine dove si mettono secondo te Per spedirle? Tipo qua? Sì Ok Ti ha detto di no Non la voleva nessuno Perché qualcuno l'aveva già messa Maledetti La rimetto lì sopra E anche se è fredda La mando Guardate che bella pizza Oh yes Ok Anche la mia è pronta Perfetto Facciamo un'altra L'hanno reso più carino cucinare Ma è tutto più carino Steph Questa map è fantastica Vado a prendere gli ordini io Steph Tranquillo Sicura? Sì 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 No c'è una persona Ma non c'era nessuno No hanno fatto tutto Ah prendere gli ordini Prendere gli ordini Non c'è nessuno Pensavo di scatolarli Non c'è nessuno Perché in scatolarli c'è una persona Che lo sta facendo Ok meno male Perché qua non c'è nessuno E dicevo cavolo Non arrivano altri ordini Devo consegnare al B Tre Che è questo qui Buongiorno Salve Sì ho una pizza per lei Ah stai facendo anche le consegne? Eh sì Visto che ci sono Faccio un po' di tutto qua Ecco grazie Una consegna fatta veloce E lo so Grazie mille Sono velocissimo Un bravo lavoratore Ok sto prendendo un sacco di ordini Così almeno qui si lavora Le cose vanno avanti Tu non mi devi fissare Sara consolina Devi lavorare Perché se mi fissi La pizzeria poi chiude Va tutto a rotoli Devi andare O vai in cucino O mi aiuti a fare la casseria Non mi puoi fissare Basta Non va bene Diglielo Stef Fai il manager e diglielo Fere Che c'è? Ho tipo preso una consegna Per il B2 Che sono tipo tre pizze Ok Ed è una cosa positiva Ho pensato una famiglia intera Che deve mangiare Beh certo Buono Guadagno di più teoricamente Ho bisogno di più Tieni Stef Tieni Stef Appena dato tre pizze Sì Eccolo Devo dirti una cosa Sara consolina Si è messa in cucina E le ho visto Cercare di consegnare Le pizze crude Le pizze E ci ho provato anche io All'inizio fare Come? È ovvio che la devi cuocere Buongiorno Stef stanno facendo andare Le blatte delle pizze Questi Questi dipendenti Cioè non sono molto bravi No la puoi mettere nel forno La pizza Quella con le blatte Via L'ho buttata nel cassonetto Perché c'è una pizza con le blatte? Non lo so Perché penso che sia qualcuno Che ha preso l'impasto L'ha lasciato marcire Quindi era pieno di blatte sopra Te lo giuro Letteralmente Ma che schifo E uno stava provando a consegnarla E l'ho messa pure in forno Cioè l'ha cotta Ha cotto le blatte E provava a consegnarla L'ho dovuta buttare nel cassonetto E diglielo Sono dipendenti orribili Stef faremo fare Le mie questa Ma questa è ordinarà pizza ogni minuto È peggio di Stef Stef Ci sono tipo 10 ordini di pizza Vi muovete a prendere il sugo Per favore Anche le limonate mancano Quindi anche le limonate Che poi le vedo qui in frigo Ho capito Fer Ma sai Sto consegnando la pizza a te Non ci credo Come a me Sì Io non ho ordinato nessuna pizza Io sto lavorando in cucina Stef Quello è un impostore È qualcuno che mi ha invitato E mi ha detto che servono La limonata Sì È il sugo di pomodoro Stef Ok Ti prego Aiutami Sto provando Ci sono 20 ordini qua Nessuno sta consegnando niente Perché non c'è il sugo Tu non toccare la mia pizza La stavo facendo io questa Vattene Sto impazzita Io li licenzo tutti Vai via Vai via Togliti 3 4 5 6 Sto prendendo tutto Fer Sia il sugo Che le limonate Vado a lavorare un po' alla cassa Mi stanno davvero Facendo perdere tutta la pazienza del mondo Non mi rubare il camion Vedi Vedi che Stef Non fa tenerli buoni Questo è perché c'è un manager orribile Manager Te ne devi andare Lascia il lavoro a qualcuno più bravo Per favore C'è arrivata Stef Sì è arrivato tutto Ok sono 20 Ok posso continuare No no ne arriva Ne arriva Ne arriva Ok ok sta aumentando Perfetto Posso continuare a fare le pizze Voi andatevene tutti O giuro che vi do fuoco nel forno Allora Vediamo un pochettino Qui c'è comunque il manager Che sta fissando il vuoto E non sta facendo nulla Allora facciamo così Allora la pizza così Ovviamente margherita Questa è quasi pronta per fortuna Allora è questa qua la disgraziata Che mi ha rubato le cose Allontanati da me SBN Da consegnare Allora Cuciniamo un pochino Sugo Mozzarella Mettiamo in forno Te ne devi andare tu Chi Tu Stef Perché Perché la stavo mettendo io la pizza E non prendere gli ordini che ho già preso io Vattene Sto facendo io Vai negli altri reparti Stef Stef non mi farà arrabbiare Fede ho preso gli ingredienti Stef non mi farà arrabbiare Quindi Io lavoro qui Stef non mi farà arrabbiare Vai via Sto lavorando qui Ma perché questa pizza sta lampeggiando Perché era già pronta Eh può essere Da un po' inizia a lampeggiare Va 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 consegniamo Velocissimi Velocissimi Dobbiamo fare un sacco di pizza Dobbiamo recuperare tutto il tempo In cui siamo stati fermi Perché Stef stava rifornendo il sugo di pomodoro Via anche la lattina Non è dal mia colpa Sì un pochettino È stato un po' lento in effetti Oh cavolo Quella con la salsiccia non serviva più Oh cavolo Ma la stavo facendo anche io Ah no io sto facendo l'altra Tu stai facendo quella con i peperoni Credo E io L'altra cosa marrone Che cos'è Eh non lo so Perché è salsiccia anche questa Boh forse è un altro tipo di carne Non lo so Non mi interessa Tenete le pizze Basta ok Allora faccio un'altra E abbiamo praticamente finito Spero che mi pagheranno tanto Appena finito Eh pure io cavolo Sto lavorando un sacco qui dentro No non vorrei dire ma ho fatto dieci lavori Ma l'hai visto Steph Che tipo Ho il cappello da chef Ma i miei capelli sono legati in una treccia E sono rosa Cioè proprio mi ha legato i capelli reali In una treccia Mi sembra intelligentissima Come è possibile sta roba è bellissima Sì è interessante Pensavo non avessi i capelli Invece ce li avevo Opla Ok margherita fatta Adesso tutte margherite arrivano Ne sto facendo due margherite io Ok allora la lascio qui pronta Anzi facciamo Questa con la carne E si consegna questa Che tanto quella Steph non la sta facendo Una Perfetto abbiamo finito tutto qua Benissimo Benissimo Bravi 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 E purtroppo non sono diventato il manager oggi Sono molto triste di questa cosa Steph che succede Perché siamo tutti Cioè Bianchi Oh che cosa succede Vedi che appena te ne vai fanno disastri Steph Cos'è questa cosa Non lo so Fede Sono tipo delle bolle di sapone Hai preso Chi ha preso l'estintore Ah Avete preso l'estintore Sei stato tu Steph Ora sì Sei stato tu Smettila Ti prego Steph Rimettilo a posto Mi hanno fatto scoprire qualcosa di molto divertente Ti prego Già ci sono loro Perché ti ci devi mettere pure tu Rimetti la cosa a posto E Fede ha scoperto qualcosa di divertente Scusa Vai via Vai via dalla cucina Ciao Fede Via dalla cucina Fede nessuno sta facendo i clienti Eh lo so Perché continuano a fissarci E le cose non vanno per niente bene in questa pizzeria Ho notato Però io non sono il manager Non posso sistemare le cose Anche se lavoro qui E questa Ok C'è un tipo che mette l'estintore sui clienti In ogni caso Mi direi che ci possiamo fermare così Non ce la faccio più a lavorare in questo posto Anche se lavoro qui È davvero faticoso La mia vita è davvero complicata Comunque ho guadagnato 278 soldini E infatti sono appena arrivati come stipendio Quindi direi che comunque sono stato un ottimo lavoratore Qua sotto come sempre con altri video Iscriviti al canale Campellina E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao